L'Europa e non solo l'Europa, anche le Nazioni Unite, l'abbiamo visto a Glasgow, l'abbiamo visto a Roma, crede nella importanza delle infrastrutture idriche, quale volano per raggiungere i vari obiettivi che ci siamo dati per l'accesso all'acqua potabile, per le infrastrutture resilienti, ma anche per la lotta al cambiamento climatico. Per fare questo l'Europa chiede ai gestori di industrializzarsi, di poter aumentare la capacità di investimento e di pianificazione sul territorio e di farlo in maniera efficace ed efficiente, quindi velocemente nel tempo e bene utilizzando le risorse pubbliche, con uno sguardo alla sostenibilità delle attività, sia essa di natura, mi ripeto un attimo, infrastrutturale, ma anche sociale ed economica. Il settore idrico è un settore particolarmente capital intensive in cui in particolare in questo momento vengono chiesti grandi sforzi di investimento nel breve termine. Per sostenere questi investimenti il sistema tariffario to cure non è sufficiente, serve poter avere accesso a strumenti finanziari più evoluti che vadano non solo dal classico indebitamento, che comunque è una condizione sine qua non per sopportare l'industria, ma anche a sistemi più evoluti dei bond, addirittura al capitale di equiti o a strumenti di partenariato pubblico privato per investimenti con payback più rapido.